Renault, leader assoluto nel mercato dei veicoli commerciali, rafforza l'offensiva, potenziando l'offerta Renault ProPlus dedicata ai veicoli commerciali elettrici, con l'arrivo di Master ZTE, continuando così l'impegno per un futuro a zero emissione. Renault ProPlus amplia la sua gamma di veicoli commerciali elettrici proponendo quattro veicoli, Twizy Cargo, Zoey Van, Kangoo ZTE e Master ZTE. Con questa gamma unica al mondo, Renault ProPlus si adegua alle attese degli operatori professionali e alle sfide ambientali con una proposta elettrica su misura. Master è Levi Van dal design robusto ed espressivo, apprezzato per il comportamento dinamico. È considerato uno dei riferimenti del segmento, propone una grande facilità di carico, associata a dimensioni utili generose, un'eccellente ergonomia e una sicurezza attiva e passiva al migliore livello. Autentico ufficio mobile, Master è innanzitutto un mezzo efficiente e rassicurante, adottato da oltre 475.000 clienti dal lancio. La versione elettrica di Master si rivolge principalmente alle flotte che operano in ambiente urbano, nell'attività di distribuzione dell'ultimo miglio e a grandi enti locali. One Master ZE si declina in sei versioni per rispondere alla varietà delle esigenze degli operatori professionali. Sono tre lunghezze, due altezze. Le quattro versioni furgone propongono un volume utile, compreso tra 8 e 13 metri cubi e un carico utile da 1 a 1,1 tonnellate. Lo spazio di carico è perfettamente identico alla versione termica, grazie all'installazione della batteria sotto la scocca. resa possibile dall'ottimizzazione dell'ingombro. Le due versioni pianale e cabinato sono disponibili in lunghezza L2 e L3. Il carico utile, rispettivamente di 1.370 kg e 1.350 kg, le trasforma in supporti ideali per allestimenti in carrozzeria gran volume per un carico fino a 22 metri cubi. Master ZE è equipaggiato con la batteria ZE33 di 33 kWh. Frutto di uno sviluppo congiunto tra Renault e LG Chem che consente un'innovazione fondamentale, quello dell'aumento della densità energetica ottenuta grazie al miglioramento della chimica delle celle della batteria. Master ZE è dotato del motore elettrico R75 ad alta efficienza energetica di una potenza di 57 kW, 76 CV, derivato da Zoe. Prodotto nel sito di Cléon, in Francia, questo comprovato propulsore consente al Master ZE di trovarsi perfettamente a proprio agio in ambiente urbano e periurbano. Master ZE vanta una velocità massima di 115 km orari che può essere limitata in funzione delle necessità del cliente. Assicura un'autonomia di 200 km NDC, adeguata all'attività quotidiana di consegni dell'ultimo miglio in ambiente urbano. 200 km NDC sono 120 km reali. Occorre meno di una notte per ricaricare il Master ZE. La ricarica completa al 100% è realizzata in 6 ore con la wallbox da 7 kW. Nuovo Master ZE, 100% commerciale, 100% elettrico, ma zero compromesso.